In questo video scopriremo i migliori programmi di video editing gratuiti e con gratuiti non intendo versioni di prova con filigrane o altre limitazioni strane. Sono dei veri e propri software completi e gratis per iniziare magari la vostra carriera su YouTube, per editare un video semplice oppure perché no anche un video complesso. Infatti nonostante siano a costo zero non hanno poi così tanti limiti e anzi vedrete che a volte sono migliori di alcuni programmi a pagamento. Dato che questo video probabilmente verrà visto da molti utenti alle prime armi nel mondo dell'editing, invece di elencarveli e basta ho pensato di fare una mini guida per ognuno di questi tre programmi che vedremo tra poco. Sicuramente non vi renderà degli esperti ma almeno vi darà quell'input iniziale e non vi capiterà di aprire il programma e dire dove devo cliccare. L'approfondimento e la pratica poi ovviamente sta a voi. Sappiate solo che online ci sono tantissime risorse, tutorial, guide sia in inglese che in italiano su tutti questi programmi, quindi c'è davvero tanto per imparare. A questo punto però basta, non perdiamo altro tempo e vediamo subito il primo programma. Si chiama Shotcut, è disponibile su Windows sia a 32 che a 64 bit, su Mac e anche su Linux. Si può scaricare e installare in pochi secondi dal sito ufficiale che trovate anche in descrizione. E una volta aperto questa è la schermata che vi ritroverete. La prima cosa che ci chiederà di fare sarà creare un nuovo progetto. Scegliamo quindi dove salvarlo, diamogli un nome e infine selezioniamo la combinazione di risoluzione e FPS. Io scelgo per esempio 1080p a 30 frame per secondo che va benissimo per i video di YouTube. Per importare le nostre clip, sia video che audio, clicchiamo su apri file. Oppure più semplicemente trasciniamoli nella parte sinistra del programma, all'interno della sezione elenco di riproduzione. A destra comparirà a questo punto un player, che ci permetterà di vedere l'anteprima dei nostri video. Se vogliamo, cliccando la lettera I, possiamo impostare un punto di inizio e con la lettera O un punto di fine. In questo modo, ancora prima di iniziare l'effettivo editing, avremo rimosso eventuali parti iniziali e finali che non ci interessano. Successivamente trasciniamo i nostri video nella timeline sottostante. A questo punto vedete che il player si sarà diviso in due. Selezionando sorgente, vedremo l'anteprima delle clip che abbiamo importato. Cliccando invece su progetto, vedremo il risultato del vero e proprio progetto in corso, che si trova in timeline. Quindi in questo caso la somma di questi due video. Possiamo spostare o accorciare le clip con il nostro mouse, trascinando gli estremi verso sinistra oppure verso destra. Per effettuare un taglio, invece, spostiamoci nel punto desiderato e clicchiamo la lettera S. Possiamo anche inserire più tracce con un tasto destro e cliccando poi su aggiungi traccia video o audio. Spostandoci invece con il mouse negli angoli superiori delle clip, possiamo creare delle veloci dissolvenze in entrata e in uscita. Questo vale sia per le clip video che per quelle audio. Per aggiungere una transizione, trasciniamo l'estremo di una clip sopra quello di un'altra e verrà creata in automatico. Facendo poi un tasto destro sopra di essa e cliccando su proprietà, potremmo sceglierne di diverso tipo tra una lunga lista. Se invece vogliamo modificarne la durata, possiamo fare uno zoom e trascinarla verso sinistra o verso destra, allungandola oppure accorciandola. Per quanto riguarda invece gli effetti video, si possono aggiungere selezionando una clip e aprendo la sezione filtri. Cliccando il tasto più, possiamo selezionare tantissimi effetti, sia video che audio, e ognuno di essi ha le sue impostazioni modificabili. Usando il cronometro sulla destra di ogni effetto, possiamo creare delle animazioni tramite i keyframe, modificando quindi il valore dell'effetto nel tempo. Infine, per esportare un video, clicchiamo su Esporta. Selezioniamo un formato, i più comuni per esempio sono predefinito, H.264 o YouTube, se volete caricarlo su quest'ultimo. Clicchiamo poi su Esporta file e attendiamo il rendering. Il secondo programma di cui voglio parlarvi è DaVinci Resolve, uno dei più famosi e completi. Anche lui è disponibile su Windows, ma solo a 64 bit, su Mac e anche su Linux. Per scaricarlo dovete recarvi in fondo al sito ufficiale e registrarvi compilando i dati. Potete farlo tranquillamente, il sito è sicuro. Una volta fatto, vi basterà scaricare il file setup e installarlo sul computer. Una volta aperto il programma, creiamo un nuovo progetto, cliccando semplicemente su New Project e scegliamo un nome. La schermata di DaVinci Resolve si divide in più parti, che vanno da sinistra a destra, fino ad arrivare all'ultima operazione, che è il rendering, che si chiama Deliver. Partiamo quindi dalla prima, chiamata Media. Qui troviamo tutto il necessario per importare le nostre clip. Possiamo farlo trascinando tutti i nostri file video e audio nella parte bassa. Se vogliamo, possiamo anche creare delle cartelle per organizzare il tutto. La seconda sezione si chiama Cut. È stata aggiunta solo nell'ultima versione di DaVinci Resolve 16, che attualmente è in beta, ma secondo me, se siete alle prime armi, vi consiglio di spostarvi direttamente nella sezione Edit. Questa è la parte più importante, in cui avvengono tutte le principali modifiche. È molto simile ad altri programmi, come anche Shotcut, che abbiamo appena visto. C'è un player, con cui possiamo vedere l'anteprima delle clip importate, e una timeline. Anche qui è possibile usare i tasti I e O per creare un punto di inizio e fine, eliminando subito la parte iniziale e finale che non ci interessa. Trascinando una clip in timeline, comparirà un nuovo player. Quello a sinistra, a questo punto, visualizzerà le anteprime dei file, e quello a destra il contenuto della timeline. Come vedete comunque i programmi di editing sono molto simili tra loro, e infatti come su Shotcut, anche qui possiamo spostare o accorciare le clip con il mouse, trascinandole verso sinistra o verso destra. Se il video contiene anche una traccia audio annessa, saranno legati e si muoveranno allo stesso modo. Per evitare questo, possiamo fare un tasto destro e disattivare Link Clips. Ora possiamo modificare o eliminare una traccia senza intaccare l'altra. In alternativa, possiamo anche eliminare definitivamente una traccia video o audio con un tasto destro Delete Track. Anche qui, spostando il mouse negli angoli delle clip, possiamo creare delle veloci dissolvenze in entrata e in uscita, proprio come su Shotcut. Nella sezione Effects Library, invece, possiamo trovare transizioni, testi, elementi grafici, effetti e molto altro ancora. Possiamo trascinare ognuno di essi direttamente nella clip su cui vogliamo attivare l'effetto o la transizione. Mentre per quanto riguarda i testi, possiamo trascinarli in una qualsiasi traccia video. Tutte le modifiche avvengono nella parte destra, chiamata Inspector. Selezionando una transizione, si potrà modificare la durata, lo stile. Selezionando un testo, si potrà modificare il contenuto, il colore, eccetera. E selezionando una clip audio, per esempio, si potrà modificare il volume, il pitch e così via. Qualsiasi modifica può essere svolta tramite l'inspector. Con i bottoni che troviamo a destra, possiamo creare dei keyframe. E modificarli usando il bottone in basso a destra che comparirà sulla clip. In questo modo, possiamo creare delle curve di animazione con valori differenti nel tempo. Le prossime sezioni, soprattutto Fusion e Color, sono molto potenti ma anche molto avanzate. E quindi non andrò a trattarle in questa guida veloce. Passiamo quindi direttamente all'ultima sezione, chiamata Deliver, in cui possiamo esportare il nostro video finale. Vi consiglio un formato comune, come H264 oppure YouTube, se volete caricarlo su quest'ultimo. Date un nome al video e poi cliccate su Add to Render Queue, Start Render. E l'ultimo programma di oggi si chiama HitFilm Express. Ve l'ho già consigliato in un vecchio video e secondo me rimane uno dei più validi. È disponibile su Windows solo a 64 bit e anche su Mac. Per scaricarlo vi chiederà di condividere un messaggio su Twitter, ma basta cliccare e chiudere poi la finestra. Funziona lo stesso. Poi create un account e mi raccomando ricordatevi la mail e la password perché sono importanti. Vi verrà inviato il link per scaricare il programma tramite email, quindi se non arriva provate a controllare nella cartella spam. Una volta scaricato ed installato bisognerà attivarlo, eseguendo l'accesso con il nostro account che abbiamo appena creato. Inseriamo quindi di nuovo email e password e verrà attivato correttamente. Per verificare che tutto abbia funzionato chiudete il programma e riapritelo. Se in alto a destra la scritta Activate è scomparsa avrete fatto tutto bene. Per creare un nuovo progetto clicchiamo in alto a sinistra su New, scegliamo un template, io di nuovo scelgo 1080p a 30 frame per secondo e clicchiamo su OK. Come sempre, per prima cosa, importiamo le nostre clip nel programma. Possiamo farlo cliccando su Import oppure trascinando i file nella sezione in basso a sinistra. In alto a sinistra invece ci sarà il player per vedere l'anteprima delle nostre clip. Se è troppo pesante e va a scatti potete abbassare temporaneamente la qualità impostandola su un mezzo oppure un quarto. E come al solito, di nuovo, usando i tasti I e O, selezionerete il punto iniziale e finale della clip. Trasciniamola ora nella timeline che si trova in basso a destra. Proprio come su DaVinci Resolve, anche qui una clip video è sempre legata alla sua parte audio. Per impedirlo e quindi per modificare singolarmente le clip, basta fare un tasto destro e cliccare su Unlink. Cliccando con il tasto destro su una traccia audio o video possiamo inserirne delle nuove per altre clip. Per tagliare una clip potete usare lo strumento Blade e cliccare in qualsiasi punto, oppure usando la scorciatoia da tastiera Ctrl più Shift più D e farà un taglio nel punto in cui si trova il cursore. Usando questa linea bianca, invece, possiamo abbassare velocemente il volume dei file audio o l'opacità dei file video. Nella sezione Effetti possiamo trovare molti effetti e transizioni per clip video e audio. Possiamo trascinare una transizione all'inizio, alla fine di una clip, oppure tra di esse, e trascinandole verso destra o verso sinistra con il mouse possiamo allungarle o accorciarle. Gli effetti, invece, una volta aggiunti, possono essere controllati dalla finestra Controls, assieme a tutte le proprietà delle clip. E usando i cerchietti a sinistra di ogni singolo effetto, si potrà creare delle animazioni tramite keyframe, variando il valore della proprietà nel tempo. Infine, per esportare il nostro progetto, basterà andare su File, Export Contents. Clicchiamo su Go to Export e ci ritroveremo nella finestra di rendering. Come ultima cosa scegliamo un preset, vi consiglio YouTube 1080p, e poi clicchiamo su Start Exporting. Se volete approfondire fin da subito HitFilm Express, potete anche guardare il mio vecchio video che ho fatto al riguardo. Ve lo lascio ora qua sopra nella scheda in alto a destra. Io spero, come al solito, che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Fatemelo sapere lasciando un bel mi piace e commentate qua sotto con il vostro programma di video editing preferito. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di abilitare soprattutto la campanellina delle notifiche, se non volete perdervi tutti quanti i prossimi video. Se volete mi trovate anche su Instagram e Telegram, dove pubblico offerte tech interessanti, wallpaper per computer, per mobile e tante altre cose. Detto questo io vi ringrazio per la visione, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video.